Musica Musica Carisma, forza Poi fuggi Ti vesti Mi confondi Non sai dirmi quanto torni Si chiama un temporale di emozioni che poi quando passa L'ampo è colo di passato che si paga insergenza Il grande che è coltivo da Poi 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 Ora che tutto va a caso, ora non sono più peso Dimmi quali scuse inventerai Inventerai, ormai sei forte E chiuderai tutte le porte E chiudereai, ormai sei forte E chiudereai, ormai sei forte E chiudereai, ormai sei forte Ma questa paura per te Non passa mai Angelo Prenditi cura di lei 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 Innamorare tutte le donne che sono qua Ne sono sicuro Tra l'altro è riduce da una tournée mondiale Ha fatto concerti in America, in Australia, in Cina Signore e signori Di Shakira No, i grandi Scusatemi Michael Prenditi cura di lei 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 e un buon 2016, grazie per essere venuti stasera grazie ciao amici della notizia web siamo qui con Francesco Cicchella che ha chiuso la rassegna l'importante ridere organizzata da Antonio De Toma e giunta alla decima edizione Francesco hai appena terminato il tuo spettacolo com'è stato oggi questo spettacolo qui al Mercadante è una serata molto bella, molto divertente mi sentivo molto in famiglia, infatti ci sono stati molti fuori programma cose non previste dalla scaletta dello spettacolo, ma mi sono divertito a tal punto da improvvisare delle cose, quindi non è la prima volta che vengo a Cerignola, non è la prima volta che sono in questo teatro quindi sapevo già quello che mi aspettava, però è sempre bello trovare un pubblico così caloroso sempre sorprendente il pubblico infatti ha molto partecipato si è inserito nel tuo spettacolo dove hai proposto il meglio nel tuo repertorio sei reduce dalla vittoria a tale e quale il programma di Carlo Conti su Rai 1 che ti ha dato ulteriore popolarità e notorietà sei forse da quanto dicevano anche i giudici del programma adesso forse il migliore imitatore che c'è sulla piazza hai strabiliato con tante interpretazioni alcune delle quali sono state molto gettonate qui questa sera guarda sulla piazza si però sul corso mi pare che non lo so insomma questo non lo devo dire io anche perché tra l'altro l'imitazione è solo una delle mie caratteristiche delle cose che mi diverte fare poi come chi ha visto lo spettacolo sa in realtà nasco come musicista poi ho studiato per fare l'attore poi l'imitazione insomma è la cosa che con cui ho trovato la mia dimensione comica fino ad ora però insomma non sono io che mi devo fare i complimenti da solo ecco quali sono i tuoi progetti futuri in questo 2016? allora sicuramente a febbraio riparte Made in Sud una nuova stagione quindi sicuramente ci sarò anch'io e poi metterò su uno spettacolo teatrale perché quello che avete visto questa sera in sostanza è un spettacolo di stampo molto cabarettistico quindi è ancora un ibrido diciamo tra il cabaret e il teatro e invece sto preparando uno spettacolo che sia proprio un vero one man show quindi con una band con un corpo di ballo insomma in stile non voglio dire in stile Broadway però insomma una cosa fatta un po' con cui gireremo dei teatri probabilmente faremo un'anteprima a Napoli per poi portare la tournée in giro per l'Italia l'anno prossimo grazie Francesco ma figurati grazie a voi e un saluto